E bella a tutti ragazzi, qua è XXX Monster e siamo tornati in un nuovissimo video di Brawl Stars Quest'oggi siamo insieme a Tempori, saluta Ciao a tutti Questa volta non ho detto grazie Bene Ok, quest'oggi faremo una partita in sopravvivenza e una in roba assalto Però prima devo dirvi due cose importantissime La prima è che ho sbloccato il gadget di Colt L'ho trovato in una cassa piccola In una cassa grande, non importa, vabbè E ho sbloccato anche quello di Brock Che però, come potete vedere, l'ho comprato Quindi oggi andremo ad usare questi due Brawler No, non metto Spike Tempori L'obiettivo per me oggi è portare, è sbloccare Bull Sono 237 qui Ma Bull non si sbloccate le 500? 250 Ah, no, è un'altra del 500 Vabbè, e la seconda cosa è che vi dovete iscrivervi al canale Lasciare like e attivare quella fottutissima campanellina Così non vi perderete nessun mio fantastico video Ora, abbiamo parlato anche troppo, andiamo in game Ok, regà, siamo in game Dove cazzo sta fiumando Temporini? Ma se ne avevi una davanti ai giocchi Tento che c'è una molestatrice Anzi, più molestatori Guardala, guardala, che mi molesta Mi molesta, l'ho uccisa Oh, c'è un dynamite qua, lo faccio fuori Ha coppato, ha coppato Non mi ha neanche sparato Un dynamite sono scassi Oh, no, 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 ma che... Eeeh, vabbè, ma che cazzo Sì, vabbè, ma cos'è sta roba, cos'è sta orgia Sono arrivato a sei casse Bene Vabbè, facciamo sempre sopravvivenza, dai Metta pronto, buon uomo No, abbiamo buttato in sei casse No, vabbè, ma ci hanno troppo scopato Cioè, ci hanno chiuso in un panino Meglio non dire cosa Con le code di castoro Che schifo Sai che i cinesi usano le pinne degli squali Per fare la zuppa Ma porca Che schifo Cioè, è tutta, è tutta tipo cartilagine, sai Proprio bella croccantina, buona Oh, ma basta bombardare solo a noi Ma a tempo sei morto Ma crepaci Comunque il gadget di colto praticamente Ti dà due colpi istantanei Due colpi istantanei A gratis Perché gli altri li devi pagare Oh, c'è un tipo da me C'è un becchino No, non ci morire E dai Andiamo, andiamo Guardali, guardali Guarda questo qua quanto è ciscione Guardalo Perda la torretta Aia, mi ha fatto male Però comunque scontro finale Raga Perché non stavo Madonna Quando bisogna registrare Io non registro mai Questa cosa mi fa incazzare Raga Praticamente La papera Gli aveva lanciato Le granate Boh, gli aveva lanciato Le granate E Temporina era praticamente morta Perché aveva 600 di vita Ma gli ha tirato lassù Perché arriva lontano E quindi Bene Oh, eccoci ragazzi Mi roba assalto E Temporina si è messo il primo Che è il brawler Più sbagliato del mondo Intanto sono sempre Elevato quel primo Eh, sì Però dopo arrivano i boss Grossi E ti fanno il culo Vai, gli sparate Mi voglio dire un canto Comunque quando arriva Il boss Raga Ehm Provo il gadget Che non so che cazzo faccio Cosa fa quello E cosa fa il gadget Di il primo Se c'è Oh no Maledetti bastardi Forse ho fatto Forse ho fatto male Ad usare la super Forse Oh no Sta arrivando il boss Andiamo da lui Eccolo No Il nostro compagno è morto No Tempocinore Ah ma fa tipo uno scoppio Che fa danno E fa E fa E salta via Ma che figlio Ci sto Non lo so Però sono messi abbastanza bene Ok You got killed No 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 Eccolo Appunto Avevo detto Siamo messi abbastanza bene Ma porca Di quella Puttana Però Ma fa solo 500 di danno Ma che schifo Ma cosa Che ne hai già Milla Eh vabbè Non Ok La situazione È messa abbastanza Malle Vabbè Oh raga Temporino ha trovato Poccio In una cassa Perché abbiamo Abbiamo perso Siamo arrivati a 2 minuti e 48 A me ne ha dato 80 gettoni Perché avevo solo 5 5 gettoni 5 ticket Però lui ne aveva 20 E quindi Ha dato 4 casse E aveva anche quella grande Questa E ha trovato il pocio Ok Provalo Ok raga Siamo nell'ultima partita di oggi E dopo faremo un mini Spacchettamento Che non troverò niente Come al solito Ma perché ha troppo Capita Poccio Dai In verità Abbastanza vita Piuttosto di io Che ne ho 3600 Tipo Io ne ho 3500 4000 Stecca ne ha 2000 Solo Ah vero Che ti ha il problema Più scasso Non è vero In questa modalità È fortissimo Però voglio usare Eh potevo mettermi Stecca Sono scemo Però ho tenuto Brock Vabbè Nel prossimo episodio Useremo Stecca E in questa modalità È fortissimo È con stecca Che ho fatto Così tanti Così tanti minuti Cioè In una Nella partita Che ho fatto stamattina In una partita Che ho fatto stamattina Raga Raga Sono arrivato Tipo a 5 minuti E mezzo E mi è dato Tipo 600 600 600 gettoni Mi confondo Tra ticket E gettoni Oh ma Lo prendo Sto qua Sì o no Raga È arrivato Il robot enorme Tempo Uccidilo Uccidilo No Ok Io son vivo Vabbè Raga Abbiamo finito Abbiamo finito Anche questa partita Sette casse Questa era L'ultima partita Raga Andiamo Col mini Spacchettamento Sette casse Pensavo di più Ma non importa Dai Please Ma Mi mi da Gigi Spero che non travi un cazzo Please Stai zitto Che hai trovato Porcio Dai please Vada Infi Frate Olio Queste Viscis E con questo Spacchettamento Di merda Come al solito E finiamo Questo video Io vi ricordo Di iscrivervi al canale Di lasciare like E attivare Quella puntata Campanellina Ve l'ho detto Perfino due volte In questo video Quindi fatelo Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga